Ma che hai da ridere? Perché non hai ancora capito? Che cosa? Che i gatti e la colpa sono tornati qui, hanno preso le monete e sono scappati via. Ma c'è verbolina, non è possibile! E invece era possibile? Perché sto ferrando le monete e faccio solo alberi carichi d'oro? E hai capito di alberi così? Ma c'è verbolaccia! E quando sono tornato al campo dei dragoli, non solo non c'era un albero carico di monete d'oro, ma non ho più trovato neanche quelli che avevo seppellito. E' per questo che chiede all'illustrissimo signor Giudice che il gatto e la colpa vengano...